buona giornata amici bentrovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 15 gennaio 2024 vediamo subito il santo del giorno il santo del giorno è san mauro abate san mauro abate visse nel sesto secolo ebbene una figura emblematica san mauro discepolo di san benedetto prediletto insieme a san placito divenne priore di monte cassino e considerato poi il successore del suo fondatore di san benedetto che lo aveva in grande in grande considerazione fondò anche il primo monastero in terra francese e quindi fu un santo molto considerato si fece frate in giovane età ed era di una famiglia nobile di una famiglia senatoriale questo è san mauro e vediamo ora le previsioni del tempo vediamo la grafica ebbene oggi il tempo è un po incerto abbiamo una nuvolosità irregolare con qualche pioggia notturna schiarita in giornata con temperature diurne fino a 15 gradi la media comunque la minima 6 la massima 9 ma abbiamo anche punte superiori i venti sulle coste respireranno da ovest e sud ovest mentre nell'interno da sud ovest il sole questa mattina sorgerà alle 7 e 48 e tramonterà alle 16 e 50 ed ora apriamo i giornali a partire dalla prima pagina del resto del carlino che fa la sintesi delle notizie a carattere nazionale regionale vediamo appunto il carlino marche e parliamo subito di pesaro la 100 chilometri di tavuglia valentino e luca i fratelli invincibili una bella manifestazione tra lo sport e la gogliardia che si è svolta a tavuglia e ha visto ancora una volta i due fratelli vincitori tanti tifosi alla gara dei campioni nei rince nel rince del dottore poi la festa nella tenuta dei vip a san giovanni in marignano a urbino abbiamo un'iniziativa che riguarda gli studenti la grafologia per valutare gli studenti mentre a sasso corvaro la rocca ubaldinesca resta senza gestore l'ingresso è sbarrato per gli noti problemi che hanno coinvolto la proloco vediamo in ancona la ferragni il problema della ferragni in 3000 vogliono il rimborso caso del pandoro ci sono rivolti alle associazioni dei consumatori per avviare una iniziativa di massa prevediamo un'azione di massa dice l'avvocato canafoglia caldaia in tilta colle marino 200 residenti al freddo nel condominio dell'errap mentre a osimo c'è un pasticcio imu un cittadino dice il comune voleva tassarmi la prima casa vediamo le notizie di ascoli e di fermo taglia la sanità e polemica ma quaroli ribadisce aumentiamo le risorse nel settore ad ascoli il primo weekend con la neve a monte piselli ed è subito pienone di coloro che amano lo scinte lo lo sci piccola della scolano crollo a pistoia salvata una neonata era con i genitori la famiglia appunto è della scolano occupazione ancora difficoltà per le imprese che cercano lavoratori mancano operai operai specializzati a macerata ancora in aumento i casi di influenza andate a vaccinarvi questo è un appello che non riguarda soltanto i cittadini di macerata ma un po tutta la provincia tutta la regione delle marche a tolentino una rapina con la pistola nell'area di servizio ma il papà lo fa arrestare e per quanto riguarda le imprese simonelli cresce la simonelli cresce e apre una filiale a dubai pronti a nuovi mercati hanno detto i titolari dell'azienda apriamo il giornale vediamo subito la kermesse che si è tenuta a tavoglia fratelli invincibili li vediamo qui nella foto valentino e il fratello luca marini che tengono stretto il trofeo dei vincitori alla 100 chilometri sullo sterrato del rence di tavoglia valentino e luca sbaragliano i concorrenti e fanno un tempo netto da paura nella prova più dura ebbene il dottore valentino e il fratello luca marini si sono imposti sabato alla 100 chilometri dei campioni al rence di tavoglia un appuntamento questo a metà tra agonismo e gogliardia ormai caro ai fan di vale che sabato pomeriggio si sono presentati numerosi appunto a questo avvenimento 50 giri percorsi dei due fratelli con il tempo record di un'ora 45 minuti e 54 secondi una bella una bella kermesse e qua in un altro articolo vediamo invece il papà di valentino che ha visitato il museo lasciato da luciano battisti museo particolare che contiene delle moto famose tra cui la moto con cui il papà di valentino rossi e sfiorò il titolo mondiale nel 1979 una bella morbidelli 125 e poi abbiamo anche altre moto importanti come la 250 del figlio valentino che ha che insomma girò nel 1979 veramente un anno un anno record per questo sport e qui vediamo invece l'articolo che riguarda l'iniziativa assunta dall'istituto grafologico moretti di urbino che ha proposto ai comuni e alle scuole di valutare gli studenti attraverso la loro grafia su cinque scuole due hanno accettato e sono l'istituto pascoli e l'istituto anna franche considerando che l'esame della scrittura con l'esame della scrittura si possono valutare un po le indole e i problemi degli stessi studenti c'è però qualche riserva e la esprime angela de marchi dell'istituto don gaudiano angela de marchi dice non credo che un bambino di sei anni possa essere valutato compiutamente non la ritengo l'età giusta sarebbe meglio analizzare quella di uno scolaro di terza o quarta che hanno acquisito un loro carattere nella scrittura secondo angela de marchi l'età è troppo precoce per fare questo esame in realtà gli docenti i tecnici gli studiosi dell'istituto grafologico di di moretti di urbino hanno istituito hanno fatto questo accordo con il comune feltresco che ha colto la proposta e ha stanziato 3.000 euro per la valutazione dei bambini delle elementari 100 euro a bambino tifosi contro il presidente siamo a fano e l'articolo si riferisce al derby tra il fano calcio e il fossombrone che si è svolto ieri al mancini un incontro che già alla vigilia aveva suscitato delle polemiche per l'aumento del prezzo del biglietto che la società aveva decreato oltre 20 euro la cosa non è andata giù ai tifosi che hanno considerato questo aumento come uno sgarbo molti si sono radunati fuori dello stato hanno lanciato cori contro il presidente contro la società insomma ci sono stati dei lanci di mortaretti insomma ci sono state delle proteste e soprattutto hanno ci sono avuto delle proteste contro coloro che sono entrati ugualmente allo stadio e poi sono usciti tra il dileggio della folla comunque tutto è avvenuto con un cordone di polizia di carabinieri per proteggere appunto chi ha assistito alla partita fanno fossombrone che poi è finita 0 a 0 entrambi gli ultras e supporter sia di fossombrone che di fanno hanno manifestato rumorosamente intorno allo stadio ebbene la protesta è stata sostenuta anche dagli assessori etienne lucarelli e cristian fanesi che erano presenti appunto all'incontro benedizione degli animali ieri in piazza a fano in piazza 20 settembre alle 10 iniziava la cerimonia c'era poca gente all'inizio poi via via la piazza si è incrementata di persone e con i loro animali in modo particolare cani c'erano solo cani e c'erano i meravigliosi cavalli delle giacche verdi che hanno organizzato l'iniziativa un'iniziativa che si ripete tutti gli anni in piazza 20 settembre e ieri era anche una bella giornata di sole non faceva nemmeno molto freddo quindi la piazza si è presto riempita l'abbaiare dei cani festosi nessun incidente ovviamente tutti tenuti al guinzaglio e c'era anche chi aveva in braccio un gattino e dall'altro braccio anche un cagnolino quindi veramente una coesione un'armonia che insomma la vice lunga a come come i fanesi amano gli animali un centinaio di cani qualche gatto 15 cavalli un tenerissimo pony e persino un coniglio che ne è uscito però dal suo trasportino ovviamente i gatti sono stati tenuti prudentemente in braccio perché insomma se li si ponevano per terra con i cani non so come andava come sarebbe andata a finire ebbene la benedizione è stata impartita dal parroco del Duomo Don Giorgio Giovanelli ovviamente c'era anche la presenza delle giacche verdi che hanno organizzato come ripetuto la manifestazione e c'erano gli assessori che hanno portato il saluto dall'amministrazione comunale Samuele Mascarin e Etienne Lucarelli una bella iniziativa e vediamo quello che sta accadendo invece a Sasso Corvaro dove la Rocca rimane senza gestore la Proloco si sfila gli accusatori rilanciano la Rocca Ubaldinesca di Sasso Corvaro è senza gestore la Proloco si è chiamata fuori per le note vicende che poi hanno portato ad una condanna dalla Proloco che vendeva dei libri suoi all'interno della Rocca sì ci sono stati dei problemi qualche errore può sempre capitare ma insomma quello che è accaduto viene considerato un po' sproporzionato a quanto si è fatto e dunque al momento non c'è il gestore quindi la Rocca non si può visitare perché ovviamente occorre a qualcuno che se ne prenda la responsabilità questo per quanto riguarda le notizie della nostra provincia vediamo anche i titoli di Ancona festività giù il sipario migliaia invadono il centro per il concerto in piazza a Carnevale un altro evento successo per il tributo a Pino Daniele con Tony Esposito e il Macapea Band e qui c'è il discorso della Ferragni il Pandoro e la solidarietà la Ferragni nel Mirino 3.000 anconetani vogliono il rimborso l'avvocato Cannafoglia dell'Associazione Consumatori è più un danno morale ovviamente che un danno fisico IMU le cartelle pazze ho solo la casa dove vivo il comune voleva tassarla è una notizia che viene da Osimo il racconto di un quarantenne che solo dopo essersi recato negli uffici si è visto annullare anche la multa mi è sembrato che avessero anche altri casi di questo disservizio dice ed ora passiamo al Corriere Adriatico sulla pagina di Fano vediamo subito l'apertura è dedicata eccola qua se riesco a trovarla eccola qua eccola qua è dedicata al famoso regista Leandro Castellani siamo caduti in una truffa ci portano via l'abitazione è un caso veramente triste quello che sta accadendo alla famiglia di Leandro Castellani il noto regista che ha dedicato una vita alla cinematografia e alla televisione facendo delle opere che hanno visto l'attribuzione di premi prestigiosi come il Leone d'Oro di Venezia ci siamo caduti siamo caduti in una truffa ci portano via l'abitazione ebbene a causa di una situazione debitoria la famiglia di Castellani ha dovuto vendere la casa romana si sono aperti dei contocorrenti che sono stati affidati a un consulente finanziario quest'ultimo poi sembra che se ne sia approfittato ora deve sostenere l'accusa in tribunale di appropriazione indebita e di altre imputazioni altri reati sembra che la situazione si stia incancrenendo e da cinque anni che va avanti questa vicenda drammatica in mezzo c'è anche la messa all'asta della casa della selva tra Centinarola e Fanile dove abita la famiglia Castellani che è poi una famiglia che ne ha la proprietà addirittura da sette generazioni e dove il regista custodisce tutte le sue memorie una vicenda che viene rievocata che è stata rievocata dalla trasmissione andata in onda su Rete 4 condotta dal giornalista Mario Giordano fuori dal coro dove sono stati rievocati tutti i particolari della storia e poi ci sarà anche una nuova trasmissione che farà Rai 1 che proprio oggi o domani dovrebbe essere nella casa di Castellani per registrare la puntata si tratta di una trasmissione che andrà in onda al mattino e che riguarda l'approfondimento quotidiano su casi di cronaca più attuali e le storie raccontate dalla viva voce dei protagonisti carote pane e biscotti per gli animali in piazza Don Giorgio ha impartito la benedizione per la festa di Sant'Antonio Abate tutto si è concluso prima che si alzasse la nebbia ieri in piazza 20 settembre dove si è svolto il tradizionale appuntamento della benedizione degli animali ed è stato interessante vedere come tantissime persone hanno un animale si prendono cura di un animale in casa animali di tutte le taglie di tutte le razze piccoli grandi tutti mansueti e non sono stati rilevati casi di accredini insomma tra gli animali stessi anzi molti vanno d'accordo molti hanno all'interno della propria casa anche più animali e quindi questi vanno d'accordo tra di loro non ci sono problemi e l'amministrazione comunale ha ricordato poi quanto si fa in questi ultimi tempi per secondare coloro che hanno un animale in casa si cerca ovviamente di evitare i maltrattamenti si sono messi a disposizione degli sgambatoi si è istituita una pattuglia nell'ambito del corpo della polizia municipale che vigila sulla situazione igienica e sulla situazione stessa degli animali quindi c'è un certo ordinamento una certa cura per questo settore non trascurabile della vita sociale cittadina centro storico si impoverisce di piccoli negozi e botteghe il progetto di rilancio della CNA presentato oggi se ne discuterà oggi in collaborazione con l'assessorato alle attività economiche nella sala della concordia alle ore 18 la situazione del centro storico dell'apparato commerciale primario della città di Fano i suoi problemi le sue opportunità le sue aspettative ci sarà anche l'amministrazione comunale è un momento di riflessione con un incontro pubblico che la CNA porta all'attenzione del pubblico si parlerà dell'importanza delle botteghe artigiane del piccolo commercio a presidio dei centri storici che forniscono una fotografia del centro storico di Fano che si distingueva dall'apparato della grande distribuzione appunto per le iniziative di carattere familiare ora queste purtroppo stanno sempre più sparendo per l'avvento l'avvento anche qui del franchising e poi c'è la grossa concorrenza dell'e-commerce e quindi la situazione va discussa va analizzata e soprattutto va cercato un correttivo endoscopia da febbraio a Fossombrone un nuovo medico i materiali donati sono utili e già in uso l'Aste l'azienda sanitaria territoriale risponde alle preoccupazioni del comitato di Fossombrone ospedale importante vediamo anche un incarico temporaneo per coprire il servizio in medicina generale il supporto sanitario al dottor Spadoni assegnato ad Orciano a terre roveresche invece si parla di rischi e oneri della discarica li spiegheremo ai cittadini e l'associazione articolo 32 che organizza un incontro pubblico giovedì prossimo sull'impianto di Carrafaneto a Senigallia a Senigallia Palazzo Gerardi serve un ascensore rebus sui tempi per l'avvio del cantiere il sindaco Olivetti necessario per abbattere le barriere architettoniche bisogna rendere pubblico rendere accessibile anche ai disabili questo bel palazzo però manca l'ok della soprintendenza ed è sempre un problema intervenire sui palazzi storici dove occorre rendere delle innovazioni strutturali quindi cambiare l'assetto dei palazzi stessi che sono vincolati ovviamente dalla soprintendenza ed ora parliamo anche di sport parliamo di sport vediamo un po' come è andato il weekend sportivo alla Viz il match spareggio Olbia 0 Viz 1 una bella vittoria fuori casa dei biancorossi il neocquisto Nicastro firma la rete della vittoria a Olbia ora i biancorossi fuori dai play-out Carlson con almeno tre occasioni per poter arrotondare il punteggio Obi entra però e si infortuna i padroni di casa hanno colpito una traversa sullo 0-0 con un colpo di testa di Nanni però insomma non sono riusciti a forare la barriera della Viz vediamo ora cosa ha fatto il fano calcio il fano calcio a parte tutti i problemi che sono nati fuori dello stadio ha pareggiato con il Fossombrone la sfida con il Fossombrone in un Mancini semi-deserto ovviamente la maggior parte dei tifosi erano fuori dello stadio per la protesta di entrambe le tifoserie l'unico sussulto al 27esimo quando Casolla imbeccato da Pandolfi non riesce però a trafiggere Guerrieri e quindi il risultato ad occhiali fano 0 Fossombrone e intanto il presidente russo impone il silenzio non fa parlare nessuno in quanto poi è apparso un po' indispettito da cori e striscioni e non dà l'autorizzazione a parlare con i giornalisti l'ex germinale è stata una partita dura ma corretta non bella sul piano dello spettacolo uno spettacolo che pochi hanno visto perché appunto la maggioranza era fuori il bomber trevigiano peccato per lo scenario certe situazioni fanno male a noi giocatori ovviamente i giocatori hanno bisogno del sostegno dei supporter della curva della tribuna insomma di tutti coloro che frequentano lo stadio giocare in uno stadio deserto certo non dà la carica ai giocatori stessi fucili invece per quanto riguarda il Fossombrone fucili il tecnico del Fossombrone ho visto una squadra ordinata punto buono e certo fuori casa avere un punto non è male il tecnico si accontenta del pari era importante non fare avvicinare troppo il Fano in classifica e ci siamo riusciti noi badiamo al sodo e poi vediamo altre squadre e vediamo che l'Urbino e l'Urbino ha fatto ugualmente un pareggio contro la Maceratese l'Urbino si mangia le mani la Maceratese evita il KO solo il grande Gagliardini salva la rata e infine gara contestata dai propri a fine gara contestata proprio dai tifosi un pareggio dunque tra Maceratese e Urbino e anche il Montecchio non decolla la vetta ora si allontana l'esordio di Bardeggia non basta non basta contro il Tolentino niente retti nello scontro diretto e anche qui dobbiamo accontentarci di 1-0 a 0 scarso lo spettacolo per i tifosi ed ora parliamo di atletica Alice Pagliarini vince i 60 metri Iapichino si migliora al Palacasali di Ancona bel successo della freccia fanese della velocità così viene definita Alice Pagliardini sugli 800 metri esulta Eleonora Vandi dell'Avis e Macerata andar 16 primo posto per Manuel Rogani della Stamura di Ancona Alice Pagliarini in questa foto la prima a destra alla partenza dei 60 metri la vediamo qui la bella e brava atleta fanese la VL la VL ha avuto una brutta partita ieri la VL regge 15 minuti ma poi si fa travolgere dal Napoli Napoli 93 Pesaro 75 questo è il triste risultato i pesaresi subiscono tanto in difesa e si mostrano confusionari in attacco poca energia ci siamo arresi Sacchetti analizza la sconfitta siamo stati in campo 15 minuti alla pari poi c'è stato il loro break e vediamo anche la Megabox la Megaboss di corsa la Megapox la coppia Mingardi Alexic trascina il Valefoglia la vittoria contro Cuneo sabato anticipo sul campo della Wash 4 Green Pinerolo diretta su Rai Sport Valefoglia 3 1 Cuneo questo è il bel risultato è un bel risultato anche quello acquistato dalla Smart System Smart System che batte il Bari con il Fiatone con il Fiatone siamo questa volta in una partita casalinga di solito la Virtus vince le gare giocate in casa questa volta però ha dovuto faticare più del solito fanno 3 Bari 2 a Fano serve il tie break e 6 match point per poter festeggiare insomma siamo arrivati all'ultimo all'ultimo match con 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 20 con 20 punti e quindi ha superato abbondantemente i 15 e il derby va a Senigallia invece per quanto riguarda la Golden Gas molto ordinata e Caparbia Brigato e Sanna finiscono entrambi a quota 26 punti la gara del Matelica condizionata dall'antisportivo e dall'espulsione a Riccio nel terzo quadro e con questa notizia di sport noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto a rassegna and notizi Grazie a tutti.